Buongiorno a tutti quanti telespettatori. Ci racconti la sua storia, che è una storia molto interessante perché ha un progetto nobile dietro. Quale? Abbiamo quest'anno cercato di portare per l'Italia un messaggio molto importante, quindi anche un salto culturale, se vogliamo, passando dal termine accessibilità al comfort per tutti quanti. Quindi questo è stato il primo messaggio e poi con il grande partner di quest'anno, Mare Vivo, abbiamo potuto parlare anche di ambiente e quindi sensibilizzare tutti quanti su questa tematica, oltre a far conoscere l'importantissima legge Salva Mare. Allora, la legge Salva Mare è fondamentale, ma quello dell'accessibilità è un tema che tocca molte persone. Entriamo proprio nel vivo del concetto di accessibilità. Sì, ma allora guarda, io normalmente vivo in barca tutto l'anno, qui a Via Reggio i miei vicini di barca sono persone che non hanno una disabilità come la mia, ma hanno delle difficoltà anche loro. E ogni volta che venivano a bordo la mia barca, la prima esclamazione non è guarda che barca accessibile, è guarda che barca comoda. E quindi ho cominciato a pensare, se iniziassimo a parlare di comodità, di comfort per tutti quanti, probabilmente potremmo anche migliorare le cose molto più rapidamente. Se parliamo di accessibilità si va sempre a pensare di dover risolvere le questioni solamente per due barra tre persone disabili. Invece le difficoltà le hanno un po' tutti quanti, ecco, chi vive, il marina, i porti e quant'altro. Dalle persone come noi in carrozzina, alle persone di media età e neomamme e via discorrendo. Guarda, stai facendo una cosa molto bella, alta e nobile. Io ho toccato con mano perché mia mamma gli ultimi anni della sua vita li ha passati su una sedia a rotelle e non usciva mai di casa e si vergognava. Ed è stata una cosa che in qualche modo ha minato gli ultimi anni della sua vita. Invece il messaggio che tu mandi è molto bello, è importante perché è un messaggio di vita. Trant'è che nel 2018 hai fatto anche un'impresa meravigliosa. Cioè? Allora è stato il primo giro d'Italia in solitario da parte di una persona ovviamente in carrozzina, quale sono. Nel 2018 invece però ero con un'imbarcazione multiscafo, un trimarano di 8 metri, mentre quest'anno ho una barca totalmente diversa. E la passione per la vela come, quando e dove è nata? Che c'è? Che problema c'è? Ti dà fastidio il ritorno di quello che sentiamo? Allora, guarda, la mia vita da navigatore parte all'età di 24 anni. Io fino a 24 anni ero letteralmente un montanaro, con il mare proprio non ci azzeccava nulla. Poi tutto d'un tratto ho avuto la fortuna di fare un'esperienza. Il mio battesimo in barca a vela, in oceano atlantico, e da lì ne rimasi molto molto colpito. E a tal punto che già sognavo a quel tempo di poter arrivare a tornare nei Caraibi un giorno in barca a vela. E siccome a me le cose semplici non piacciono, ho sempre pensato fin da subito che ci sarei tornato un giorno in solitario. Marco, siamo grande! È la cosa per cui mi sto preparando da tantissimi anni. Presentaci il tuo ospite, presentaci. Chi è? Che ruolo svolge? Allora, io quest'anno ho portato con me, non ho potuto portare con me Matli, che è il mio compagno di viaggio di sempre, ma ho un compagno meraviglioso che è di Livorno, si chiama Igor Macera, e ha condiviso con me questi tre mesi di viaggio dal 2 giugno ad oggi. Adesso ci prendiamo una pausa di dieci giorni prima di andare a concludere a Genova. Ed è un ragazzo, non è solo un grande velista e compagno di viaggio meraviglioso, ma è anche tra i dieci piloti di acrobatica al mondo di Aliante. Quindi abbiamo fatto una coppia abbastanza forte, mettiamola così. Allora, facciamolo anche parlare, ha diritto di parola, se vuole esprimersi può farlo tranquillamente. Certo, 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 a voglia. Igor. Buongiorno a tutti. Bello averti qui con noi per questa testimonianza molto forte. Grazie. Com'è la condivisione degli spazi? Questa è una bella domanda, la condivisione. Questa è importante perché bisogna partire psicologicamente, che comunque sia a bordo, c'è una sola persona che giustamente deve comandare, e gli spazi, nonostante siano minimi, deve accettare anche questa convivenza. Quindi quando si parte in un viaggio simile è inutile starsi a scontare su alcune cose. Si accetta, appunto. Quindi è dura, è difficoltosa, perché abbiamo caratteri completamente diversi, in modo di navigare, tra virgolette, completamente diversi, però quello che ci unisce è la profonda passione per la vele e l'amicizia. Quindi poi questo va oltre qualsiasi ostacolo caratteriale. Quindi è una storia... Chi è il più rompiscatolo di voi due? Dai, diciamolo, su. Si può dire. E' il comandante, per natura è sempre il comandante. E' il comandante. Allora, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi, visto che siete a Viareggio, lì c'è un bar pasticceria che fa dei budini di riso meravigliosi, non possiamo dire il nome, ma insomma godetevi anche quelli oltre al mare, il sole e Viareggio. Marco, grazie per questa bella storia di accessibilità e per averci aperto il cuore e anche gli orizzonti. Grazie a tutti quanti voi. Speriamo di fare bene il nostro compito e di stimolare tante altre persone a seguire o a fare anche meglio di quanto stiamo facendo io e il mio compagno di viaggio, Igor. Guarda, stai facendo veramente tanto, credimi. Parlo per esperienza diretta del mio passato. Grazie. Grazie. E come si dice quando uno va per mare? Buon vento? Diciamo che in tv è meglio dire buon vento. Ecco, sì, buon vento. E vabbè, tanto ne abbiamo dette di peggiori, ne abbiamo dette. Grazie cari amici, grazie di cuore. Eh, fa bene aprire così. Noi, grazie. Grazie.